Saranno analizzate lunedì nei laboratori dei NAS le smart drugs, parliamo di cosiddette droghe furbe. Il procuratore Guariniello ha fatto sequestrare nei distributori automatici della zona del quadrilatero qui a Torino, dove si riforniscono per lo più i giovani che animano la movida estiva. Ma vediamo meglio cosa sono e come agiscono queste nuove droghe. Sono diventate lo sballo preferito dai giovani nelle discoteche e nelle palestre. Si chiamano smart drugs, ma in Italia sono meglio conosciute come le droghe furbe. Sostanze illegali, ma molto pericolose, facilmente reperibili su internet o negli smart shop. Anche se di origine vegetale, contengono sostanze psicoattive che agiscono sui neurotrasmettitori, quali dopamina e noradrenalina. Molte sono equiparabili a farmaci, ma non necessitano di autorizzazione medica. A Torino i negozi che le trattano sono in via Po, nella zona di Portapalazzo e soprattutto in quella del quadrilatero, la più frequentata dai giovani della movida estiva. Proprio in via Corte d'Appello questo negozio, ora chiuso per ferie, è stato fatto riaprire per i sequestri dei campioni. Lozioni, pastiglie, sigarette, polveri, bustine, chewing gum e strane caramelle saranno analizzate per verificare la presenza di sostanze stupefacenti o comunque pericolose per la salute. Dai distributori automatici intanto sono sparite quelle dai nomi più sibillini, come Sniff Coca e le ormai famose Spice Gold, letteralmente Spezia d'Oro, che, è già stato accertato, provoca sballi devastanti. Il problema è che la tabella ufficiale delle sostanze vietate non riesce a star dietro alla continua produzione di nuovi stupefacenti, spesso più pericolosi di quelli già conosciuti, soprattutto se in vendita in distributori automatici con la scritta prodotto naturale o vegetale. Anche la cicuta è un prodotto naturale, ma Socrate proprio con quella si suicidò.